Benvenuti, ben ritrovati, ci si è svegliati quest'oggi in provincia di Trapani, in tutta la Sicilia con una brutta notizia, quella che vede la diffusione di falsi dati sul Covid-19, ci sono tre arresti ai domiciliari e nell'indagine dei carabinieri di Trapani e del NAS di Palermo c'è anche un vero terremoto politico in seno all'assessorato regionale alla salute. L'assessore Razza infatti ha indagato e ha anche annunciato le proprie dimissioni. Vediamo. Dati falsi sull'andamento della pandemia per evitare che la Sicilia finisse in zona rossa. E' questa l'accusa con la quale i carabinieri del comando provinciale di Trapani e del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo hanno arrestato Maria Letizia Diliberti, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della salute della regione siciliana e due suoi stretti collaboratori, Salvatore Cusimano, funzionario dello stesso Dipartimento, ed Emilio Madonia, dipendente di una società che, per conto dell'assessorato alla salute, si occupa della gestione informatica dei dati. I tre posti agli arresti domiciliari devono rispondere di falso materiale e ideologico in concorso. E secondo le risultanze investigative dei carabinieri avrebbero alterato in svariate occasioni il flusso dei dati riguardante la pandemia SARS-CoV-2. Modificando il numero dei positivi dei tamponi diretto all'Istituto Superiore della Sanità, alterando di fatto la base dati su cui adottare i discendenti provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus. L'inchiesta nasce dalla scoperta che in un laboratorio di Alcamo, da qui la competenza della Procura di Trapani, erano stati forniti dati falsati su decine di tamponi. I pubblici ministeri hanno avviato accertamenti che sono arrivati all'assessorato regionale. Diverse intercettazioni confermerebbero l'alterazione dei dati inviati all'Istituto Superiore della Sanità. Dal mese di novembre scorso sono circa 40 gli episodi di falso documentati dagli investigatori dell'arma, l'ultimo dei quali risalente al 19 marzo 2021. Effettuate perquisizioni domiciliari nei confronti di altri sette indagati alla ricerca di materiale informatico e documentale utile alle indagini. Inoltre è stata effettuata un'acquisizione informatica selettiva, in particolare flusso email e dati relativi all'indagine, presso i server dell'assessorato regionale alla salute e del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. In concomitanza con gli arresti domiciliari dei re principali indagati è stato notificato anche un invito a comparire e contestuale avviso di garanzia, nonché sequestro dei telefoni cellulari per falsità materiale e ideologica nei confronti dell'assessore regionale per la salute Ruggero Razza. In una nota stampa i carabinieri affermano che su Razza, sebbene non emerga ancora compendio investigativo grave, è emerso il parziale coinvolgimento nelle attività delitturose del Dipartimento. Questa era la notizia di apertura sulla vicenda odierna, che però non abbiamo ancora finito di raccontarvi. Ci sono altri due servizi in merito, ma tra poco nell'altra edizione. I titoli di questa parte del Tg, le dimissioni annunciate dell'assessore alla salute Ruggero Razza, che si difende dalle accuse e annuncia però appunto, doverosamente, le sue dimissioni. Vittime del dovere, una giornata per ricordare i tanti lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro. Macari, i numeri confermano il successo, il location manager Ivan Ferrandez, trapenese, soddisfatto per gli ascolti. Il futuro potrebbe prevedere anche una seconda serie. Il racconto di una città antica, un libro che racconta la storia di Erice attraverso i reperti custoditi al Polo Museale Cordici. Sul campo della capolista passiamo allo sport, l'Handball Erice questo pomeriggio giocherà in trasferta contro la Iomi Salerno, una gara d'alta quota per il campionato di sere A femminile. E poi l'approfondimento, lo dedichiamo, lo leggete, alla madre pietà dei massari. Entriamo nel vivo della Settimana Santa con la prima processione che da secoli è dedicata alla sacra immagine di Maria Addolorata. Ma ritorniamo sulla vicenda che ha sconvolto un po' la Sicilia, ma immagino anche tante refluenze nel resto d'Italia. Parliamo dei dati truccati sull'andamento della pandemia da Covid-19 in Sicilia. Beh, questi investono la responsabilità, almeno politica e istituzionale, dell'assessore alla salute Ruggero Razza. Così sottolineano del resto dalla procura di Trapani. Contro gli indagati, i pubblici ministeri trapanesi hanno indicato 36 capi di imputazione, ciascuno rispondente a un episodio in cui, dal novembre a oggi, sarebbero stati alterati i dati epidemiologici. Un disegno di modificazione sistematica della realtà di cui l'assessore Razza sarebbe stato pienamente a conoscenza, secondo quanto emergerebbe dalle intercettazioni. Al momento il livello di responsabilità di Razza, dal punto di vista penale, deve essere definito dai magistrati trapanesi, ma dalle intercettazioni emerge chiaramente che l'assessore alla salute sapeva, e così i suoi stretti collaboratori. Tra gli indagati c'è anche il capo di gabinetto di Razza. Era invece ignaro di tutto il presidente della regione, Nello Musumeci. In una delle intercettazioni, Razza avrebbe suggerito di spalmare i morti su più giornate, in alta intercettazione di ridurre il numero dei ricoverati. Centrale, il ruolo della dirigente generale di Liberti, che in più occasioni avrebbe indicato ai suoi stretti collaboratori di non superare certe soglie di contagiati, o di aumentare arbitrariamente il numero dei tamponi somministrati, così da ridurre l'incidenza percentuale. Insomma, truccare le carte per evitare che la Sicilia o singole aree e città della Sicilia cambiassero di fascia, finendo magari in zona rossa. Ritocchi di maquillaggi che, però, hanno impedito, in talune occasioni, di attivare misure di contenimento maggiormente restrittive. Non si può neppure escludere l'ipotesi che l'emergenza pandemica possa essersi amplificata a causa di questa alterazione di dati. In questa direzione è possibile che altre procure indaghino più approfonditamente, in particolare quella di Palermo. A prescindere dalla eventuale responsabilità penale degli indagati e di Razza, emerge in tutta la sua drammaticità una responsabilità etica e politica. Ovviamente siamo davanti a un terremoto politico perché la notizia della alterazione dei dati epidemiologici ha scatenato la reazione di esponenti politici e le conseguenti dimissioni annunciate proprio dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Le istituzioni devono essere al riparo da ogni sospetto. Per sottrarre il governo da inevitabili polemiche ho chiesto al Presidente della Regione di accettare le mie dimissioni. Così l'assessore Ruggero Razza ha dichiarato stamani annunciando la sua richiesta di dimissioni al Presidente Nello Musumesci. Razza, però, rigetta le accuse e si difende. Desidero ribadire, ha detto, che in Sicilia l'epidemia è sempre stata monitorata con cura, come evidenzia ogni elemento oggettivo, a partire dalla occupazione ospedaliera e dalla tempestività di decisioni che nella nostra Regione sono sempre state anticipatorie. Non avevamo bisogno di nascondere contagiati o di abbassare l'impatto epidemiologico perché proprio noi abbiamo spesso anticipato le decisioni di Roma e adottato provvedimenti più severi. Razza poi entra nel merito della indagine sulla questione dei numeri. I fatti che vengono individuati, prosegue Razza, si riferiscono essenzialmente al trasferimento materiale dei dati sulla piattaforma che sono stati riportati in coerenza con l'andamento reale dell'epidemia, tenuto conto della circostanza che sovente essi si riferivano a più giorni e non al solo giorno di comunicazione. Come sempre, il fenomeno della lettura postuma della captazione può contribuire a costruire una diversa ipotesi che, correttamente, verrà approfondita dall'autorità giudiziaria competente individuata dal GIP. Ma deve essere chiaro, conclude Razza, che ogni soggetto con l'infezione è stato registrato nominativamente dal sistema e nessun dato di qualsivoglia natura è mai stato artatamente modificato per nascondere la verità. Cambiamo argomento e chiudiamo questa prima parte del Tg con un servizio sulla giornata per le vittime del dovere celebrata dalla CISL di Palermo e Trapani. Lo scorso anno a Palermo sono state 4.985 le denunce di infortuni sul lavoro, a Trapani 1.585. Nel solo gennaio 2021 si sono registrate a Palermo 541 denunce rispetto a 461 del 2020, a Trapani 106 rispetto alle 148 del gennaio 2020. I dati forniti dall'INAIL confermano, purtroppo, che il 2020 ha registrato anche incidenti mortali, 13 a Palermo, 12 a Trapani. Commemorare tutti coloro che hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro, la propria missione e tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza e l'obiettivo della giornata in memoria delle vittime del dovere. Noi riteniamo che sulla sicurezza bisogna investire tanto, non soltanto in termini economici, ma anche in termini di formazione e quindi rispetto a percorsi culturali che devono essere messi in campo. Bisogna valutare quelli che sono i rischi rispetto alle professioni che si svolgono bisogna programmare rispetto a questi rischi quelle che sono le misure di sicurezza e poi soprattutto bisogna vigilare affinché le misure di sicurezza vengano rispettate. Io credo che questa sia una delle cose su cui bisogna lavorare molto. I controlli rispetto alla sicurezza non sono mai tanti, sono troppo pochi. Pausa, le altre notizie tra poco. In questa parte parleremo della fiction Macari con i numeri che confermano il successo, poi vi racconteremo una città antica, cioè la storia di Erice attraverso i reperti custoditi al Polo Museale Cordici e poi andremo per lo sport sul campo della capolista, parliamo di handball e quindi della sfida tra la handball Erice e la Iomi Salerno. Beh, abbiamo concluso la prima parte diciamo non certamente con il sorriso sulle labbra, vediamo di farcelo ritornare. Adesso parlando di questa mini serie tv Macari, ieri sera si è conclusa la stagione, le quattro puntate che erano previste, grande successo, assolutamente un po' certamente per il nostro territorio ma anche per la stessa fiction. Tanto successo che addirittura si può ipotizzare un seguito. Abbiamo intervistato il trapanese Ivan Ferrandes, il location manager della fiction. Si è chiusa ieri la prima stagione della serie Macari, con un grandissimo successo per La Fabbrica delle Stelle, il quarto ed ultimo episodio della fiction Rai tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, prodotta dalla Palomar e diretta da Michele Soavi, con il prezioso supporto della Trapani Film Commission. 26,3% di share e 6 milioni e mezzo di telespettatori a confermare il gradimento del pubblico italiano. Ascoltiamo le parole del location manager Ivan Ferrandes. Macari ha portato dei numeri che nessuno si aspettava. Abbiamo avuto per l'intera fiction, quindi per le quattro prime serate, uno share molto molto alto. Un progetto importante portato a termine con successo in un periodo particolare data l'emergenza pandemica. Protagonisti indiscussi di questa fortunatissima serie, oltre a Claudio Gioè nel ruolo del detective per caso Saverio Lamanna, a Domenico Centamore nel ruolo del simpaticissimo Peppe Piccionello, e a Esther Pantano nel ruolo della studentessa Suleima, i luoghi incantevoli del Trapanese, che bucano il grande schermo e incantano un intero paese. Volevo ringraziare tutte le amministrazioni e la Trapani Film Commission che hanno permesso di realizzare la lavorazione di questa laboriosa e intensa serie TV. Date le premesse più che positive, sembra ci siano tutti i presupposti per una seconda stagione, anche se si attende l'ok definitivo da parte della RAI. Incrociamo le dita affinché possa arrivare l'ok da parte della RAI per iniziare a immaginare anche una seconda serie nella nostra meravigliosa provincia di Trapani. Ce lo auguriamo certamente. Parliamo invece un po' di politica. Ieri si è riunita la direzione regionale del Partito Socialista, durata oltre due ore e mezza, una riunione online come ormai purtroppo si deve fare. Ci sono stati diversi interventi e contributi significativi e di qualità. Ciò che è emerso è la vivacità politica dei socialisti in Sicilia, a malgrado le condizioni avverse e causa Covid e complici anche alcune circostanze territoriali. La partecipazione di dirigenti, di organizzazioni sindacali, giovanili e civiche è sintomatica, dicono i socialisti, della reviviscenza socialista sullo territorio. Noi abbiamo intervistato l'onorevole Nino Oddo che è il segretario regionale dei socialisti. Abbiamo fatto la direzione regionale su Zoom, oggi la politica è fatta di questi contatti di plastica e è servita per dimostrare a noi stessi e agli altri che una forza socialista in Sicilia è organizzata permane, nonostante le difficoltà del Covid. La prima analisi che abbiamo fatto è quella sulle prospettive del dopo Covid, con il recovery fund, la possibilità di poter utilizzare grandi risorse. Io su questo sono molto prudente. Noi sentiamo ogni giorno che una serie di opere pubbliche verranno realizzate con questi fondi, anche delle nostre parti. Parlo dall'ex Colombaia al Palazzo Lucatelli. Sembra che improvvisamente siano arrivate copiosissime risorse che potrebbero ridurre finalmente il gap che noi abbiamo, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale. Io sono prudente, prudente perché ho la consapevolezza che bisogna vedere queste cifre che poi si traducono in mattoni, in cemento, in opere pubbliche. Lì conosco i ritardi della burocrazia siciliana che ha un lunghissimo elenco di finanziamenti persi per essere stati incapaci di utilizzarli. Questa è la vera sfida della politica siciliana, in particolare dei prossimi anni. Riuscire a utilizzare le risorse che come non mai arriveranno sulla base dei fondi dell'emergenza Covid. Pubblicato il libro dal titolo Il Polo Museale è il racconto di un'antica città ed è scritto da Toto Denaro. Edito dal Comune Dierici è stato pubblicato Il Polo Museale Cordici, il racconto di un'antica città. L'autore, Toto Denaro, dirigente del settore cultura del Comune e direttore del Polo Museale, nel ripercorrere la storia dell'antica Monte San Giuliano attraverso i reperti archeologici e storico-artistici dalle origini ai giorni nostri, analizza gli aspetti scientifici, tecnici ed amministrativi che hanno portato all'apertura, nel luglio del 2015, del Polo Museale nei nuovi locali dell'ex convento dei Francescani e con questa guida alla conoscenza del Polo Museale aggiunge di concerto con l'amministrazione comunale un ulteriore tassello verso quella valorizzazione e fruizione dell'immenso patrimonio culturale che fa di Erice un museo a cielo aperto. La pubblicazione si avvale dei saggi del compianto archeologo Sebastiano Tusa a cui il libro è dedicato di Maurizio Vitella, docente universitario di storia dell'arte presso l'Università di Palermo, di Vincenzo Pome, esperto di armi e di Michele Valenza, cosciro, direttore artistico dell'associazione La Salerniana. Il sindaco Daniele Toscano Pecorella ha tenuto a ringraziare Totò Denaro, stimato direttore del Servizio Culturale del Comune di Erice, esperto e riconosciuto paleografo anche per i numerosissimi studi e pubblicazioni a partire dal Medioevo, soffermandosi sulla competenza e professionalità con la quale esercita il suo ruolo all'interno dell'amministrazione comunale oltre che sull'attività di valorizzazione e fruizione dei siti culturali. La Toscana ha poi fatto sapere che il libro sarà presentato ufficialmente al pubblico non appena l'emergenza pandemica lo consentirà. Andiamo agli appuntamenti sulla nostra emittente, non potete perdervi alle 16 la nostra diretta dalla Chiesa del Purgatorio a Trapani per il rito celebrativo della Madonna dei Massari in occasione appunto della Settimana Santa. Ma stasera per gli amanti dello sport alle 20.30 trasmetteremo l'incontro di Serie A2 Old Wild West tra Bergamo e la Pallacanestro Trapani mentre alle 23 vi trasmetteremo la palla a mano con la sfida di Serie A femminile fra la Handball Erich e Cassano Magnago. Vediamo adesso le provisioni del tempo e poi lo sport. Apriamo la sezione dello sport con la palla a mano con la Handball Erich che questo pomeriggio giocherà in trasferta contro la Iomi Salerno. Si tratta di una gara che potremmo definire davvero di alta quota per quanto riguarda il campionato di Serie A femminile. Ascoltiamo Federico Tarantino. Antipasto da play-off questo pomeriggio per l'Handball Erich che a partita alle 16.30 sarà sul campo della Iomi Salerno. Gara assai difficile per le vicine terze in classifiche che affronteranno la capolista del campionato di Serie A femminile e vincitrice di sette scudetti nell'ultimo decennio. Salerno ha vinto 17 gare delle 19 disputate in campionato un cammino inarrestabile che ha già portato alla sconfitta le Arpia anche in occasione della Coppa Italia di salso maggiore termo. La formazione campana fa della difesa il suo punto di forza cercando di punire le avversari in controviede. Salerno è uscita dalle difficoltà fisiche che avevano fermato nelle scorse settimane alcune atlete per Covid. Al contrario, l'Handball Erich conta il recuperare il proprio capitano Lorena ben in casa assente nell'ultima uscita stagionale vittoriosa di domenica scorsa contro Cassano Magnaco. Quello di oggi per le Arpia rappresenta un banco di prova assai difficile con il campionato che si appresta alla fase finale e quindi ai play-off. L'Handball Erich da matricola sta disputando un eccellente campionato ed il raggiungimento della post-season rappresenta un motivo di orgoglio per una società che, da pochi anni, si è affacciata nel territorio sportivo del Trapanese. Andiamo alla pallacanestro Emanuele Adeola lascia Trapani e va a Ragusa. Intanto il presidente della pallacanestro Trapani Pietro Bassano pensa al difficile futuro. Vediamo. Emanuele Adeola non è più un giocatore della pallacanestro Trapani. L'atleta ha deciso di proseguire la stagione a Ragusa dove ritorna con un trasferimento definitivo dopo l'esperienza giovanile. Adeola scende in Serie B dopo aver giocato solamente 11 gare in maglia granata tra Serie A2 e Supercoppa. Da otto giornate la giovane alla piccola non veniva impiegato. Intanto la pallacanestro Trapani ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della partita di venerdì contro l'Urania a Milano. Sarà la penultima giornata della stagione regolare una partita importante come anche il futuro dove guarda il presidente Pietro Bassano. Io ci sono, poi è chiaro, questa qui è una stagione maledetta, una stagione in cui sta costando molto alla famiglia Bassano questa stagione dal punto di vista economico. Stiamo facendo grandi sacrifici per cercare di portare a termine il campionato e per cercare di avere anche la stagione prossima in A2. Mi auguro, diciamo le dita, mi auguro di esserci in A2 l'anno prossimo. È chiaro che non sarà facile, ci sarà da lavorare anche per la stagione prossima perché senza pubblico quest'anno, avete capito bene, e senza sponsor, perché abbiamo pochissimi sponsor quest'anno, anzi ringrazio quei pochi che ci sono venuti dietro, però purtroppo capite che la situazione economica è disastrosa senza avere un ulteriore supporto o contributo. Stiamo facendo grandi sacrifici, continuiamo a farli fino a quando ci diventiamo. Il giorno che non ci diventiamo più giriamo e ce ne andiamo via. Ed eccoci all'approfondimento oggi, l'ultimo approfondimento di questa serie dedicata appunto alla Settimana Santa trabanese a cura di Claudio Maltese. Oggi, martedì santo, si parla della Madre Pietà dei Massari, la prima processione della Settimana Santa. Con il capo console Salvatore Lombardo racconteremo la secolare storia della immagine di Maria Dolorata, donata alla Società Bailorum, l'antica arte dei Massari. Dalle famiglie eredi fino all'affidamento definito alla Chiesa per la venerazione da parte dei numerosi fedeli. L'Unione Massari, Società Bailorum, un dono d'amore secolare. Oggi, martedì santo, si sarebbe svolta la prima processione della Settimana Santa trapanese, proprio con la processione della Madre Pietà dei Massari. I Massari sono coloro che, dietro retribuzione, trasportano la roba ad altri da luogo al luogo. Era una categoria rispettabile e numerosa, costituita da persone operose che si alzavano di buon mattino. Diedero vita all'Unione Massari, erede della più antica Società Sbailorum, svolgendo servizi presso i baioli, ovvero i prefetti e amministratori della giustizia civile. Nel 1774, Donna Rosa Madei dona tutte le sue proprietà alla nipote, baronessa del Granatello, e all'Artis Biolorum, ovvero i Massari. Tra questi beni vi era anche la Cappella di Santo Spirito, ubicata nell'odienno angolo tra la Via Libertà e Corso Vittorio Emanuele. Tra le opere donate vi era anche la Sagra Icona della Dolorata, che negli anni diventa la nostra Madre Pietà. Gli eredi di quell'antica Società dei Massari furono, nei secoli successivi, alcune famiglie. L'attuale capoconso e Salvatore Lombardo ci parla proprio di queste cinque famiglie. Siamo giunti alla quarta generazione delle cinque famiglie erede dei Massari, che sono Cordaro, Di Bella, Lombardo, Mazzeo e Mistretta, che insieme ai collaboratori portiamo avanti questa processione con devozione e tanta passione. I Massari avevano la loro sede nel Piano San Rocco, attuale Piazza Lucatelli, ed è per questo motivo che ogni anno l'icona della Madre Pietà dei Massari sossa dentro una capanna in legno elegantemente adobbata per tutta la notte tra il martedì e il mercoledì santo. La caparendesi barracca viene allestita nella Domenica delle Palme, nelle prime luci dell'alba e finita il lunedì santo. La cappella è in legno come da statuto vuole. Il primo riferimento storico di questa processione sia nel 1855 quando la compagnia di Sant'Annella che curava l'altra Madre Pietà del popolo scrive una lettera di protesta al Vescovo di Mazzara per impedire questa nuova processione. Per questo iniziale astio tra le due compagnie successivamente verrà svolto il tradizionale rito dello scambio del cero in segno di amicizia e di riappicificazione. La sera del martedì santo la Madonna anticamente veniva vegliata dalle mogli dei consoli però passati agli anni si sono aggiunti molti fedeli. Lo scambio del cero non è l'incontro delle due madonne che sento dire un po' in giro ma praticamente l'incontro è fra le due categorie che nel passato ci sono state deliti però appunto è nato questo gesto di incontro fa lo scambio del cero per la pacificazione tra le due categorie quindi un componente della Madonna dei Massari e un componente della Madonna dei Frutteventoli si avvicinano appunto per fare questo scambio del cero. La sagra icona le cui origini non sono documentate rappresenta la Vergine Maria con il capo chinato le mani giunti con un grande pugnale alludendo la profezia di Simeone davanti vi è un tavolino con alcuni simboli della passione una corona di spine tre chiodi e tre dadi dietro all'artistica vara in stile neoclassico c'è l'icona del sagro volto di Gesù coronato di spine impresso nel drappo bianco e sorretto da un angelo fino ai primi decenni del secolo scorso il dipinto al termine di ogni processione veniva custodito a casa di una famiglia erede che si aggiudicava tale privilegio dopo una famosa conta nel 1934 si mise fine a questa usanza e la sagra icona venne consegnata alle autorità ecclesiali perché fosse esposta in chiesa ed onorata dai tantissimi devoti beh non potevamo non ritornare sulla vicenda dei falsi dati sul covid-19 che oggi hanno portato all'arresto ai domiciliari di tre persone ad un vero e proprio terremoto politico in regione siciliana e appena annunciato le proprie dimissioni l'assessore alla salute Ruggero Razza che è stato raggiunto anche lui da avviso di garanzia tre servizi intanto la cronaca dei fatti dati falsi sull'andamento della pandemia per evitare che la Sicilia finisse in zona rossa e questa l'accusa con la quale i carabinieri del comando provinciale di Trapani e del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo hanno arrestato Maria Letizia Di Liberti dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della salute della regione siciliana e due suoi stretti collaboratori Salvatore Cusimano funzionario dello stesso dipartimento ed Emilio Madonia dipendente di una società che per conto dell'assessorato alla salute si occupa della gestione informatica dei dati i tre posti agli arresti domiciliari devono rispondere di falso materiale e ideologico in concorso e secondo le risultanze investigative dei carabinieri avrebbero alterato in svariate occasioni il flusso dei dati riguardante la pandemia SARS-CoV-2 modificando il numero dei positivi dei tamponi diretto all'istituto superiore della sanità alterando di fatto la base dati su cui adottare i discendenti provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus l'inchiesta nasce dalla scoperta che in un laboratorio di Alcamo da qui la competenza della procura di Trapani erano stati forniti dati falsati su decine di tamponi i pubblici ministeri hanno avviato accertamenti che sono arrivati all'assessorato regionale diverse intercettazioni confermerebbero l'alterazione dei dati inviati all'istituto superiore della sanità dal mese di novembre scorso sono circa 40 gli episodi di falso documentati dagli investigatori dell'arma l'ultimo dei quali risalente al 19 marzo 2021 effettuate perquisizioni domiciliari nei confronti di altri sette indagati alla ricerca di materiale informatico e documentale utile alle indagini inoltre è stata effettuata un'acquisizione informatica selettiva in particolare flusso e-mail e dati relativi all'indagine presso i server dell'assessorato regionale alla salute e del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico in concomitanza con gli arresti domiciliari dei re principali indagati è stato notificato anche un invito a comparire e contestuale avviso di garanzia nonché sequestro dei telefoni cellulari per falsità materiale ideologica nei confronti dell'assessore regionale per la salute Ruggero Razza in una nota stampa i carabinieri affermano che su Razza sebbene non emerga ancora compendio investigativo grave è emerso il parziale coinvolgimento nelle attività delitturose del dipartimento ovviamente questi dati presumibilmente truccati secondo le indagini appunto odierne investono la responsabilità politica e istituzionale quantomeno dell'assessore alla salute Ruggero Razza Contro gli indagati i pubblici ministeri trapanesi hanno indicato 36 capi di imputazione ciascuno rispondente a un episodio in cui dal novembre a oggi sarebbero stati alterati i dati epidemiologici un disegno di modificazione sistematica della realtà di cui l'assessore Razza sarebbe stato pienamente a conoscenza secondo quanto emergerebbe dalle intercettazioni al momento il livello di responsabilità di Razza dal punto di vista penale deve essere definito dai magistrati trapanesi ma dalle intercettazioni emerge chiaramente che l'assessore alla salute sapeva e così i suoi stretti collaboratori tra gli indagati c'è anche il capo di gabinetto di Razza era invece ignaro di tutto il presidente della regione Nello Musumeci in una delle intercettazioni Razza avrebbe suggerito di spalmare i morti su più giornate in alta intercettazione di ridurre il numero dei ricoverati centrale il ruolo della dirigente generale di Liberti che in più occasioni avrebbe indicato ai suoi stretti collaboratori di non superare certe soglie di contagiati o di aumentare arbitrariamente il numero dei tamponi somministrati così da ridurre l'incidenza percentuale insomma truccare le carte per evitare che la Sicilia o singole aree e città della Sicilia cambiassero di fascia finendo magari in zona rossa ritocchi di maquillage che però hanno impedito in talune occasioni di attivare misure di contenimento maggiormente restrittive non si può neppure escludere l'ipotesi che l'emergenza pandemica possa essersi amplificata a causa di questa alterazione di dati in questa direzione è possibile che altre procure indagino più approfonditamente in particolare quella di Palermo a prescindere dalla eventuale responsabilità penale degli indagati e di razza emerge in tutta la sua drammaticità una responsabilità etica e politica beh vado a sé però che l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza avvocato si difende dalle accuse ha annunciato comunque le sue dimissioni le istituzioni devono essere al riparo da ogni sospetto per sottrarre il governo da inevitabili polemiche ho chiesto al presidente della regione di accettare le mie dimissioni così l'assessore Ruggero Razza ha dichiarato stamani annunciando la sua richiesta di dimissioni al presidente Nello Musumeci Razza però rigetta le accuse e si difende desidero ribadire ha detto che in Sicilia l'epidemia è sempre stata monitorata con cura come evidenzia ogni elemento oggettivo a partire dalla occupazione ospedaliera e dalla tempestività di decisioni che nella nostra regione sono sempre state anticipatorie non avevamo bisogno di nascondere contagiati o di abbassare l'impatto epidemiologico perché proprio noi abbiamo spesso anticipato le decisioni di Roma e adottato provvedimenti più severi Razza poi entra nel merito della indagine sulla questione dei numeri i fatti che vengono individuati prosegue Razza si riferiscono essenzialmente al trasferimento materiale dei dati sulla piattaforma che sono stati riportati in coerenza con l'andamento reale dell'epidemia tenuto conto della circostanza che sovente essi si riferivano a più giorni e non al solo giorno di comunicazione come sempre il fenomeno della lettura postuma della captazione può contribuire a costruire una diversa ipotesi che correttamente verrà approfondita dall'autorità giudiziaria competente individuata dal GIP ma deve essere chiaro conclude Razza che ogni soggetto con l'infezione è stato registrato nominativamente dal sistema e nessun dato di qualsivoglia natura è mai stato artatamente modificato per nascondere la verità grazie